Musica Ciao a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati qui sul canale di Pringiluke Come potete vedere stiamo registrando col mio Samsung Galaxy S10 Plus Di cui avrete già visto l'unboxing, le prime impressioni e probabilmente anche la video recensione Ma è solo perché questo è un vlog mensile Voi lo vedrete alla fine di ogni mese Io riassumerò tutto quello che è il mio mese tecnologico Registrandolo direttamente con lo smartphone che utilizzo appunto durante tutto quel mese Dato che cambierò uno smartphone al mese Oggi però direi di non perderci in chiacchiere Vi ricordo che tutto l'audio, il video eccetera è registrato interamente con questo Samsung Galaxy S10 Quindi fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate E intanto partiamo con quello di cui andremo a parlare oggi Ovvero un unboxing, unboxing di questo prodottino qui che vedete all'interno di questo pacco Veramente molto interessante Spero di non aver rotto nulla Ma devo dire che questa è un'azienda che mi sta sostenendo abbastanza Soprattutto durante l'ultimo periodo Quindi non perdiamoci in chiacchiere E andiamo a fare subito l'unboxing E andiamo a fare subito l'unboxing Ok ragazzi a parte vabbè il casino L'ho montato e guardate quanto sta bene sopra la mia scrivania E' veramente super figo Ve ne parlerò sicuramente in qualche video E devo dire che però Spigen devo assolutamente ringraziarla Quindi grazie mille Spero che mi mandiate tanti altri prodotti In modo da unboxarli, recensirli e portarli qui sul mio canale YouTube Ok ragazzi scusatemi un po' per il vento e per il casino Ma siamo su una bellissima terrazza E come potete vedere è veramente molto molto bella Al centro della mia città E oggi andremo a far volare il mio bellissimo DJI Nuovissimo DJI Mavic Air Veramente un dispositivo incredibile Con una qualità video spettacolare Quindi lo andiamo a provare E lo andiamo a vedere sempre in questo vlog E lo andiamo a vedere sempre in questo vlog Ok ragazzi oggi mi è arrivato finalmente un altro pacco Che stavo aspettando da un po' Ed eccolo qui Adesso andiamo a fare un velocissimo unboxing E andiamo a vedere quello che si cela all'Inter Ok ragazzi mi è arrivato un bellissimo power bank Da parte di Xiaomi Che ringrazio ed è veramente molto molto carino 10.000 mAh Veramente molto figo Tutto costruito in alluminio con USB Type-C Se non erro Poi andremo ad analizzare in un video che vedrete qui sul mio canale Oppure già l'avete visto scusatemi Ma è veramente molto interessante Intanto lo vedo abbastanza pesantuccio Cosa non proprio positiva Ma in ogni caso lo andremo a testare E vedere come va Lo smartphone ovvero il Samsung Galaxy S10 Plus Lo sono appena venuti a ritirare purtroppo Perché mi dispiace veramente tantissimo Ma mi hanno appena consegnato un altro pacco Ovvero lo smartphone del prossimo mese Io adesso lo vado a unboxare Non ve lo mostro Perché lo vedrete nel prossimo video Sempre qui sul mio canale YouTube Ok ragazzi Oggi stiamo andando Sto con lei che sarà la mia assistente A registrare una promessa di matrimonio Cosa mi hai detto? È un'assistente No, non è assistente capo Scusate Stiamo andando a registrare Una promessa di matrimonio Quindi ci regheremo lì Qui ho il mio zaino con tutta l'attrezzatura E farò qualche clip anche con questo nuovo smartphone Che poi ve ne parlerò nel prossimo video Ok ragazzi Siamo appena arrivati nel luogo Dove avverrà esattamente la registrazione Della promessa di matrimonio E adesso sto facendo volare Un po' il drone Per portarmi qualche clip a casa In modo da avere libertà di spazio Per girare Per montare il video E quindi ci vediamo dopo Con un po' di backstage Girato direttamente dalla mia ragazza Maria But I'll do my best To be a better man for you Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti